Abbiamo preventivamente assaggiato l'uva e abbiamo visto che è abbastanza dolce e nello stesso tempo comunque conserva una certa dose di acidità, quindi diciamo che per noi è opportuno procedere con la vendemmia. Abbiamo già raccolto la maggior parte dell'uva che abbiamo, non è molta, eccola qui, quindi non è molto assolutamente, però riusciamo comunque con quello che abbiamo a fare un po' di vino. Papà, allora quali sono le fasi della lavorazione? Tu che fai adesso con quest'uva? Io questo qua che ho fatto prima della pioggia, mi do una, si mette, lo lavi un po', ah beh diciamo che, ah lo lavi quindi per la polvere c'è un po' di polvere sopra. In questo recipiente, vedi da questa parte c'è il rubinetto, lo mettiamo a bollino per una settimana, per una settimana, avendo cura di abbassarlo ogni sera. Ogni sera lo abbassiamo, ogni mattino, ogni sera, vediamo un po' com'è la situazione. Ok, poi tiri fuori il liquido. Poi teniamo il liquido, il resto rimane, lo torsiamo e riusciamo tutti insieme. Ho capito, va bene, vabbè poi vediamo man mano, adesso procediamo quindi con la lavatura, la separazione dai raspi e la pigiatura. Eccola la famosa pigiatura, quindi prendi le pigne d'uva e le schiacci con le mani. Ok, quindi dopo che hai schiacciato, hai pigiato l'uva, ecco i raspi li butti. Questo lo butto, qui si... Ok, ok, ho capito. Ecco, dopo questa roba. Ecco, dopo questa roba. Quando ero piccolo, io, mio nonno mi faceva togliere le scarpe, mi faceva lavare i piedi e mi portavano in d'altino. Vabbè, quando l'uva era in quantità, era parecchia, certo. Allora sì. E si usava, certo. E mi pigiassi pigiavano con i piedi. I bambini pigiavano con i piedi. Sì. Certo, con un po' di tempo così. Vabbè, però viene bene, no? E vabbè, un po' viene bene pulito. Il vino è pulito, è buono, hai cura di separare appunto i chicchi, i raspi, le streppe da l'uva. Ecco, questo la butti proprio, non la usi proprio per il vino. No, no, questo si butta. Poi quello che viene torchiato è quello che rimane dopo aver tolto il vino da questa vasca. Dopo aver tolto il sugo, dopo sette, otto giorni, sei o sette giorni, quando vogliamo, ora sembra così, basta dopo un cinque giorni. Sì, nel mattino si abbassa e lo torchiamo. Prendiamo gli acili che rimanono e lo torchiamo. E poi devi ribischiare quello che esce dal torchio, dalla torchiatura lo mischi. Sì, lo mischiamo assieme a questo qua. Ho capito. Va bene, poi vediamo. Abbiamo ultimato la fase della pigiatura e della diraspatura. Abbiamo estratto il liquido dai chicchi d'uva, con una santa pazienza, perché chiaramente con le mani ha richiesto veramente molta pazienza. E adesso lasceremo fermentare il vino, il liquido a contatto con i chicchi d'uva, attraverso una fermentazione naturale, perché all'esterno dei chicchi d'uva è presente del lievito praticamente. Non è venuto poco, ma neanche molto, circa una spanna di questo contenitore. E nei prossimi video andremo a vedere quali sono le successive fasi. Grazie a tutti.